jack sparrow cosa mare lo dico che detto a gesta jack sparrow perché mi sono sentito col mal di mare effetti effettivamente è stato come ha scritto non mi ricordo chi in uno dei commenti che c'è lasciato in un video in un post stato come abbattere il muro di berlino mamma mia però ce l'abbiamo fatta 1 a 0 dove praticamente questo questo solo gol è bastato per portarci a casa questa vittoria come era abbassata al real madrid noi però l'abbiamo fatto più bello rispetto a come l'abbiamo fatta il real madrid il madrid rim pallo e bellingham che si noi quara si è inventato una giocata da fenomeno fino a ne ha fatte tante ma quella decisiva poi alla fine è arrivato e jack proprio nel suo il tiro di prima altrettanto un fenomeno e distrugge nell'animo nell'orgoglio ronu che che praticamente credo sia un record che credo che sia uno degli unici portieri che ha giocato contro il napoli ha subito un tiro e un gol un tiro in porta un gol cioè penso che passerà la storia ronu avevamo tutti i giocatori però che l'avrebbero tirato solo entrando col pallone nella porta stasera perché non ci abbiamo minimamente provato quindi ci arriviamo proprio cioè sono stati bravi loro e furbi che ogni volta che abbiamo fatto giocate particolarmente efficaci ci hanno bloccato sul nascere cioè per esempio qua era ogni volta che non era la prima giocata che gli riusciva però le altre volte l'avevano praticamente bloccato in scivolata in tutto tirando per la maglietta abbracciandolo cioè sono stati bravi a fermare sul nascere qualsiasi azione pericolosa e noi ovviamente siamo non siamo stati bravi a sfruttare comunque il fatto che loro dei cartellini hanno iniziato ad averli e piano piano la partita si era messa nel nel binario loro e noi l'abbiamo ribaltato questo binario l'abbiamo messa sul binario nostro e il finale di gara è stata praticamente loro che a cacchio buttano la palla in mezzo e lì noi siamo stati praticamente abbiamo fatto una difesa impeccabile cioè veramente non è arrivato un tiro a meret mi ricordo soltanto quello là dove lui esce non è nemmeno si può neanche considerare tiro la cosa bella alla fine fine su me quella lo so che per molti è aver colpito il proprio orgoglio personale sulla base probabilmente del niente però io ho apprezzato l'idea di abbassarci anche perché non a caso loro erano completamente inadeguati a guidare la partita cioè loro sapevano giocare solo di contropiede quindi affibbiata di la responsabilità di dover giocare la palla e di dover costruire non sapevano che cazzo fare e lì tu li hai veramente bloccati perché loro finché hanno potuto giocare di contropiede in realtà si sono saputi rendere pericolosi ma quando è arrivato il loro turno di comandare non hanno saputo cosa fare perché poi per me dal mio punto di vista questo è uno dei metodi per andare mandare in confusione in tilt un avversario che come gioco ha quello che ha fatto nel primo tempo cioè aspettare l'avversario fermarlo e poi ripartire in contropiede cioè se tu rimani lì rintanato lui il contropiede non lo può fare quindi vanno in tilt l'unica cosa che possono fare è buttare la palla in mezzo e lì abbiamo dominato noi due gli aerei l'abbiamo venuto la maggior parte noi in area nostra fuori dall'area purtroppo non abbiamo victor per poter competere che tra raspa e simeone è stato veramente complicato tenere dei palloni in quei frangenti di gara dove ci serviva la punta che riesce a duellare per il resto diciamo che io capisco chi non sia proprio soddisfattissimo della prestazione però non so se le ha pure snocciolati i dati quello di Sky cioè le squadre che giocano contro l'Union Berlin giocano tutti in un modo completamente diverso addirittura di tutta la Bundesliga si è visto che chi gioca contro l'Union Berlin corre il 16% in meno rispetto al solito cioè l'Union Berlin ti fa fare questa partita perché sono proprio bravi a fare questo e noi secondo me siamo stati bravi a stare al loro gioco e l'abbiamo vinta c'è poco da fare ma che piaccia o meno noi l'abbiamo vinta cioè per me la critica può arrivare se non l'avessimo vinta ma siccome l'abbiamo vinta e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni l'unica che ci hanno concesso cioè questa partita è stata meritatissima questa vittoria per quanto mi vuoi no vabbè ma è normale che sia così lo stesso Real Madrid ha dovuto fare un gol e poi chiudere tutto ma il gol del Real Madrid è arrivato all'ultimo però è per dire che l'Union Berlin è quella squadra ma in realtà tutte le squadre noi questo ragionamento l'abbiamo sempre fatto sul canale ragazzi abbiamo sempre detto non c'è cosa peggiore di trovarsi davanti una squadra che ha deciso che non deve subire gol il che si traduce in io di rischi non me ne prendo rimango sempre dietro trovali tu gli spazi se te ne concedo alcuni per esempio questa cosa l'ha fatta l'Inter l'anno scorso quando ha la decima sconfitta in campionato Inzaghi ha detto vabbè basta cominciamo a fare le partite dove siamo tutti dietro e qualcuno ricorderà che in Champions col Tottenham così hanno vinto la partita e il percorso in Champions è stato fatto moderatamente così cioè una parte di percorso l'Inter la fece in quella maniera lì cioè chiudendosi tutta dietro assicurandosi che il gol non l'avrebbe preso che è comunque una qualità e poi andandone a fare uno con i campioni che c'ha davanti l'Union Berlin di campioni veri e propri non ne ha però ecco quando una squadra sa stare bene in campo compatta ha deciso quando deve prendere gol è difficilissimo fargliene quindi non sarà il fatto che siamo riusciti a tirare poco a togliere valore a questa vittoria anche perché ancora con il Braga è vabbè ma è una vittoria che vale poco perché è il Braga con l'Union Berlin e vabbè però 1-0 è basso con una squadra che sta a 15esimi in Bundes e vabbè ma che sia la Champions League cioè andiamoci conto è la Champions e quindi ogni vittoria deve essere riscoperta come un tesoro non può mai essere una cosa che ho sotto auto metto tutto al tappeto però vabbè perché se no facciamo Cassano Ema e Lecce Ema e Ludinese no ma è una vittoria sono sempre tre punti sono sempre partite di Champions sono sempre partite importanti difficili in uno stadio gremito cioè io sono soddisfatto tutto sommato poi che veramente abbiamo fatto un grande cosplay di horror nel primo tempo io non lo metto in dubbio però non mi interessa mi hai detto francamente non mi interessa non sono quel tipo di tifoso no più che altro io posso dare delle interpretazioni cioè per esempio tutta la gara ragazzi secondo me è stata condizionata anche dal dall'arbitro cioè l'arbitro per me non ha arbitrato male però il suo metro di giudizio era particolare era proprio nelle corde del del modo di giocare dell'Union Berlin cioè noi quante volte abbiamo subito contropiedi perché abbiamo subito un mezzo fallo che non è stato proprio considerato oppure fallo pieno che non è stato proprio considerato e sinceramente io allenatore inizio a vedere questa cosa nel primo tempo nel secondo tempo la stessa cosa ma perché io devo subire il contropiede che magari mi fa subire gol fatemi capire per colpa dell'arbitro che ha questo metro di giudizio il metro di giudizio è questo hanno fatto 21 falli 21 falli quelli chiamati quelli non chiamati secondo me si arrivava a 40 intorno ai 40 falli totali stasera l'Union Berlin e i cartellini sono stati solo 3 cioè dovevano avere una quantità di cartellini spropositata per gli interventi fatti e le azioni fermate in modo molto particolare quindi io vedo l'arbitro che mi condiziona così tanto l'andamento della gara perché poi ragazzi è stata spezzettata la partita dai falli cioè il fallo ti rompe il ritmo cioè poco da fare tu stai facendo un'azione stai palleggiando l'avversario ti fa fallo ti devi riorganizzare inizia un'altra azione non è l'azione di prima quindi pensate una partita dove ci sono stati più di 21 interruzioni nella loro area e tu hai dovuto cambiare azione per 21 volte questa è tutta la partita sinceramente è stata una scelta coraggiosa quella del mister secondo me di dire basta ma ci mettiamo qui e finiamo così la partita perché comunque potevi rischiare di subire il rimpallo fortunoso però vi posso assicurare che se avessimo subito gol magari noi già stiamo vengendo 1-0 facciamo le nostre il nostro possesso palla classico magari un giocatore tipo Simeone o Lindstrom appena entrato subiva un fallo come il clamoroso fallo che ha subito e non è stato chiamato cioè quello è un fallo clamoroso per quanto mi riguarda comunque a parte quello cioè immaginatevi scena uno perde palla contropiede come ne abbiamo subiti parecchi nel primo tempo con Becker e Fofanà contropiede gol dell'Unione dell'Unione Berlin cosa si sarebbe detto cosa si sarebbe detto tu già stai vincendo 1-1 1-0 ma che ti scopri a fare questo si sarebbe detto quindi secondo me la scelta è stata coraggiosa e alla fine si è rivelata anche vincente quindi le critiche lasciano il tempo che trovano sinceramente e poi aver dato tre cartellini su 21 falli vuol dire che ne ha dato uno ogni sette letteralmente assurdo un arbitro vicragnoso con i cartellini e dire poco mamma mia c'è un limite a quanto puoi essere parsimonioso come arbitro nel voler dare i cartellini anche perché per la maggior parte dei falli erano proprio volti raramente a fare male ma qualche fallo per fare male c'è stato tipo su cara ma poi altri falli erano proprio al fine di evitare che il Napoli ripartisse quindi veramente dare un cartellino ogni sette falli non ho più paese come si è venuto in mente di gestire la partita così per esempio che Dira oltre a due interventi scivolata molto belli ha fatto una quantità di falli tattici incredibili ed è assurdo come se ne sia uscito dal campo senza cartellino giallo ci ha fatto una cosa che forse nemmeno il fratello quando giocava nella Ju vabbè comunque questa adesso diciamo queste sono le prime impressioni a caldo magari ci guarderemo la partita come facciamo sempre e nel video delle pagelle ci mettiamo ad analizzare un pochino più nel dettaglio la partita mi raccomando non perdetelo probabilmente uscirà domani mattina e non lo so Tazzino vuoi aggiungere qualcosa? Berlino e azzurro che è Berlino che se vuoi aggiungere era l'hashtag no è perché era il non era l'hashtag figurati è perché era il manifesto che hanno messo gli ultras mi è piaciuto molto ho detto perfetto lo devo dire nel video bellissimo ah aspetta per concludere anche se volevo farlo più nel video delle pagelle però secondo me un applauso a Nathan si deve fare Nathan mi ha gasato malamente proprio in questo partito che gas mamma mia quando ha fatto quella scivolata alla tartaruga ninja che si è vista tutta la bocca bellissima eccezionale io mi sono pure spaventato perché pensavo che si fosse fatto male quando ha aperto la bocca poi invece no no ha fatto una partita assurda Nathan veramente assurda anche poi si è messa sul piano cioè ha messa le partite anche se non piacciono a parecchi nemmeno a me nemmeno io le preferisco però queste sono le partite dove poi possono brillare i difensori cioè Rachmani Nathan e Di Lorenzo anche Olivera nel secondo tempo sono stati veramente fondamentali hanno praticamente deciso loro la gara nel finale e poi ragazzi la skill di Mario Ruiz sul gol di Quara bellissima bellissima ha vinto un rimballo spettacolare che si è girato su se stesso e gli è arrivato lì e poi l'ha aperta sul Quara cioè quella ci ha fatto vincere la partita Mario Ruiz vincendo per rimparlo quindi tanta roba tanta roba quindi la dobbiamo pure a lui sì allora un'ultima cosa la voglio dire hai sentito non so se su Sky si sono scandalizzati che non hanno fatto giocare Bonucci hanno praticamente denigrato i difensori dell'Union Berlin dicendo che vabbè l'allenatore dell'Union Berlin non vuole giocare con il difensore perciò quindi non lo mette a Bonucci e che quelli che ha fatto giocare sono proprio scarsi tecnicamente Bonucci serve se tu vuoi giocare con il difensore mi immagino quindi che abbiano gli stessi toni pure con la Juventus che invece l'ha proprio estragnato dalla Rosa invece no ti può parlare male solo dell'Union Berlin magari anche se potrebbe essere assurda come cosa il tempo è passato anche per Bonucci e purtroppo nemmeno nell'Union Berlin non riesce più a fare il titolare molto più semplice da dire e questo secondo me è stato un errore però posso dire di Fischer perché non ha messo né Bonucci né Tu Sarta avrebbero segnato tutte e due contro il Napoli invece non ha voluto usare l'arma le armi che c'era a disposizione ci sta ci sta va bene ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella e parola per chi è arrivato a questo punto del video tre cartellini tre cartellini hashtag tre cartellini fate anche un applauso all'arbitro alla prossima a forza Napoli sempre a forza Napoli a forza Napoli a forza Napoli a forza Napoli a forza Napoli